Il dittatore faceva arrivare i treni in perfetto orario. La folla era gaudente. Solo uno si domandò quale prezzo stiamo pagando per ottenere la puntualità. E dentro di sé proseguì a pensare lasciatemi pure arrivare in ritardo che non ho voglia di pagare la perfezione con il sangue della mia libertà. Meglio arrivare in ritardo ma liberi che puntuali in catena e poi chissà dove. Grazie a tutti. Grazie a tutti.